Dice un proverbio neozelandese, se volete che gli altri vi vogliano bene, esprimete gli apprezzamento e gratitudine con sincerità e vedrete che la relazione con gli altri avrà un salto di qualità. Naturalmente bisogna evitare toni melensi che facciano pensare all'adulazione o toni sdolcinati che facciano pensare al corteggiamento. La parlata sia semplicemente franca, sincera, coerente tra verbale e non verbale e paraverbale. Facciamo un elenco di persone a cui vogliamo esprimere il nostro apprezzamento e la nostra gratitudine e poi mettiamolo in atto senza procrastinare troppo e se non riusciamo a farlo verbalmente facciamolo almeno per iscritto. Cerchiamo di fare di tutto per mantenere alto il nostro livello di buon umore e soprattutto non prendiamoci troppo sul serio. Ridere ci salverà! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!